Potrebbe trattarsi di un omicidio a cui è seguito un tentativo di suicidio. Il fattaccio che vede coinvolta Erika Preti, 28 anni di Biella, trovata nella cucina di un appartamento in località Lufraili, alle porte di San Teodoro in provincia di Olbia. La donna è morta a causa di una serie di ferite da arma da taglio al collo. Ricoverato in ospedale ad Olbia e piantonato dai carabinieri in gravi condizioni, anche Dimitri Firicano, 28 anni, compagno della donna, anche lui con ferite multiple provocate da un coltello. I due erano in vacanza in Sardegna per una settimana. Il compagno ha raccontato che la sua fidanzata è morta a causa di una colluttazione in seguito ad un tentativo di rapina. La sua avversione però non convince gli inquirenti.